I monaci benedettini di Norcia da circa tre settimane sono senza acqua. Lo ha comunicato padre Benedetto Nivakov. La siccità e il terremoto che ha deviato alcune delle falde acquifere nel sottosuolo hanno fatto restare a secco San Benedetto in monte. La comunità benedettina vive lì dopo il sisma che ha distrutto il monastero a Norcia. Ogni giorno dei volontari per ovviare il problema ci portano circa mille litri di acqua, ma non è sufficiente per il fabbisogno di tutti. In questo momento qui viviamo in 25 trammonaci e ospiti. Del problema il priore ha messo a conoscenza le istituzioni, ma dobbiamo cercare una soluzione noi stessi. Così stiamo pensando di realizzare un pozzo che possa soddisfare le nostre esigenze, anche se il problema maggiore è che il sisma ha deviato e modificato i giacimenti.